Non solo ospedale del mare e sblocco dei turni, il futuro prossimo venturo della sanità campana potrebbe proporre ai cittadini una fondamentale novità, è il fascicolo elettronico, ovvero l'intera vita del paziente disponibile online. Un metodo per poter rendere sempre più tempestivi gli interventi sulla salute, onde evitare peggioramenti di patologie regresse. Ascoltiamo il professore Mauro Moruzzi, esperto di salute e web, nonché presidente di CUP 2000, società che si occupa del progetto. Siamo di fronte a una vera rivoluzione come d'altronde è già accaduto nelle banche, nei trasporti, nella finanza, ora è il momento della sanità. Ogni cittadino avrà diritto di avere sul web, sul proprio computer, sul proprio smartphone, sul proprio tablet, tutti i dati di salute in un sito protetto, noi la chiamiamo una MyPage per distinguerla dall'home page, una MyPage che si chiama fascicolo sanitario elettronico dove conserva e riceve istantaneamente tutti i dati di salute che lo riguardano, cioè tutti i dati che si generano nell'interazione con il Servizio Sanitario Nazionale, con i medici degli ospedali, con i medici dei laboratori e anche col proprio medico di famiglia. Ad auspicare che l'avvento del fascicolo elettronico avvenga in tempi celeri i rappresentanti locali dei settori sanità di Confindustria e Unione Industriali, Beriamino Schiavone e Gianni Severino. È molto importante perché tende a completare il percorso virtuoso che la nostra regione ha messo in atto dopo il risanamento dei conti, adesso sta iniziando la dematerializzazione di tutti i documenti sanitari. La cartella clinica informatizzata, ma soprattutto il fascicolo sanitario e elettronico comporta un notevole miglioramento ed un servizio enormemente positivo che tenderà a dare non solo importanza ma anche risparmio, quindi celerità ed efficienza ma anche risparmio. Una volta il privato, su indicazione della regione Campania, è riuscito a tirare fuori e avrete modo di vederlo, un ottimo fascicolo elettronico per quanto riguarda l'accompagnamento del paziente dal primo all'ultimo giorno di vita. Quindi sicuramente la dematerializzazione di cui si parla tanto oggi si comincia ed è fondamentale nella sanità.